Se guardando un frigo mezzo vuoto sai vederlo mezzo pieno, se di fronte a un ingrediente solitario non arretri, se per te non esistono avanzi, ma solo abbinamenti ancora da provare, basta un po' di originalità e la sfoglia Buitoni, una consistenza unica, 196 strati di friabilità, un gusto inimitabile, per realizzare un sorprendente tortino reale ai tre formaggi rimasti e broccolo solitario. Scopri il gusto di non sbrecare.